L'ingegnere Enrico Rofino è in pratica la mente pensante oltre che il braccio operativo di questo progetto che spero di pronunciare bene perché è un termine olandese, snozeleno, ossia esplorare e rilassarsi. Parliamo di stimolazione plurisensoriale, in che cosa consiste? Intanto vedremo anche delle immagini a riguardo. Ma consiste nel mettere a disposizione di istituti, nuclei Alzheimer, tutte quelle realtà che si occupano di persone con disabilità intellettiva, deficit intellettivi, quindi inclusi anche i malati di Alzheimer, uno spazio o più spazi dove recuperare l'interesse verso il mondo circostante. Questo interesse che spesso viene meno per problemi fisiologici ma anche per depressione, per isolamento. Quindi attraverso luci, suoni, aromi integrati in un unico spazio si cerca di ricreare un mondo che sia di stimolo e di interesse per queste persone. Ricordiamo dunque che parliamo di soggetti disabili, gravi, con disturbi cognitivi e anche sensoriali e motori. La tecnica, la si comprende bene, stimolare. È questa una tecnica che ha trovato nel mondo finora quale tipo di applicazione? Le applicazioni ormai sono numerosissime, solo qualche numero. Tra Germania, Olanda e Inghilterra parliamo ormai di circa oltre 6.000 centri dove ci sono percorsi Snöselen. Parlo di percorsi perché spesso non è solo una stanza o un ambiente dedicato ma c'è tutta una serie di stimoli che si prolungano poi nei corridoi, nelle stanze di idroterapia, nei bagni assistiti che vengono veramente ritrasformati in luoghi simpatici, attraenti per arrivare fino al verde esterno e da ultimo arrivare al domicilio delle persone. Noi sappiamo che oggi sempre di più si cerca di promuovere attività diurne e la famiglia quindi è un tassello importantissimo nel recupero di questa attenzione verso il mondo esterno. Ringraziamo l'ingegnero Rofino, ricordiamo che il Cerris, struttura dell'azienda ULS20, è appunto sede di questo percorso plurisensoriale.